Un incontro con il governatore della regione Campania ed un impegno forte di De Luca per il mantenimento dei livelli occupazionali alla talis di Pagani. Questo il grido che si leva da via Filettine dallo stabilimento che ha chiuso i battenti. Una Pasqua amara per i lavoratori che si sono visti recapitare le rettere di licenziamento. Nuovo summit a Palazzo San Carlo con il sindaco Bottone per andare avanti nella dura battaglia che va avanti oramai da mesi. La talis lavora a livello nazionale, c'è un stabilimento su Astrambino, c'è un stabilimento a Roma e c'è due stabilimenti a Roma e c'è un stabilimento a Pagani. Ma solo Pagani aveva commesse ancora in vita con un operatore nazionale quale Enel. Siamo sui 2 milioni e mezzo di contatori ancora da costruire. Cioè noi abbiamo chiuso con una commessa ancora in essere. Ma anche gli altri colleghi delle altre zone d'Italia hanno ricevuto le rettere di licenziamento e il percorso è uguale? Il percorso è uguale. Tutti quanti, secondo l'anzianetà e secondo il periodo di preavviso, verremo informati dal licenziamento e licenziati con decorrenza 6 luglio 2016. Quanti siete? Qui quanti siete come lavoratori e quanti hanno già ricevuto la lettera? Qua ne siamo circa 57 e siamo già decina di lavoratori che hanno ricevuto la lettera. Già ci risulta che a Milano hanno ricevuto le lettere, così sarà Strambino e seguirà anche Roma. Le azioni quali saranno adesso? Stamattina siete qui per un nuovo incontro con il sindaco? Avete occupato l'aula? Noi avevo piacere che il sindaco stamani si mettesse in macchina con qualcuno dei rappresentanti dei lavoratori, andasse alla regione ad ottenere quelle risposte che finora non gli sono state date a lui. Una Pasqua amara per i lavoratori della TELIS che non hanno ricevuto cartoline di auguri, ma addirittura una lettera di licenziamento. Questa mattina sono di nuovo qui da lei per chiederle ancora una volta di esservi vicini, di fare un po' la voce grossa anche con la regione Campania. Sì, tutto quello che possiamo mettere in campo a difesa, a tutela di questi lavoratori lo stiamo facendo e lo continueremo a fare anche in maniera più concreta. Effettivamente non ci aspettavamo questa novità così impellente per quanto riguarda queste lettere di licenziamento. Ritengo che il discorso che si sta facendo deve continuare, bisogna incidere, insistere in maniera forte attraverso la regione Campania con il Ministero per poter rimettere sul tavolo questi imprenditori che si sono fatti avanti per sostituire la TELIS con l'ENEL affinché mantenga queste commesse per il sito di pagare. Dopo gli ultimi incontri sarà stato insomma qualche spiraglio anche di ottimismo anche da parte sua, poi tutto si è bloccato. Ora insomma questa mattina dopo questa ennesima visita dei lavoratori concretamente lei cosa farà? Sembrava già tutto risolto invece ecco queste vertenze hanno dei risvolti un po' particolari. Allora dobbiamo continuare come dicevo ad insistere, io adesso l'ho chiesto oltre che verbalmente settimana scorsa adesso l'ho chiesto anche per iscritto l'incontro con l'assessore Palmieri e l'assessore Lepore della regione Campania per poter poi riconvocare un tavolo nazionale per definire un po' quello che è la vicenda TELIS. Grazie a tutti.